Volano i cappucci, si aprono le gabbie, partiti! Cavalli tra quinta corsa del pomeriggio Nuela e Mr. Knight sono i due più veloci accompagnati peraltro all'interno proprio da Peppesp questo prima parziale veloce da parte dei primi tre, poi seconda linea completata all'interno dalla grigia Pantalica, poi ancora Zia Rosa, Sicilian Focus, Smart Rug, in coda a tutti, Starter 410 Cavalli che hanno percorso metà curva con Peppesp che alla fine si è preso definitivamente il comando accompagnato all'esterno da Mr. Knight che lo fa galoppare, rimane in terza corsia Nuela all'interno troviamo Pantalica, poi Sicilian Focus, Zia Rosa, ancora Smart Rug e Starter 410 in coda a tutti siamo in retta d'arrivo con Peppesp ancora davanti, Mr. Knight che si presenta sui fianchi all'esterno di tutti c'è la mossa da parte di Nuela, all'interno ci va Sicilian Focus ci sono quattro cavalli che vanno a lottare quando mancano 350 metri dal traguardo Sicilian Focus ed Angelo Crocicchia che guardano i suoi avversari adesso pigge sull'acceleratore Sicilian Focus che va in continua percussione Nuela e Peppesp che sono rimasti un po' lì nel tratto conclusivo Sicilian Focus a lunga deciso verso la meta e viene a vincere la prova GR nei confronti di Nuela bene alla prima occasione in questo contesto e per il terzo è rimasto in quota Peppesp Sicilian Focus dunque che va a segno settima affermazione in carriera i training quello di Angelo Crocicchia, quello di Mario Crocicchia in sella Angelo Crocicchia tre al primo posto, secondo per il numero 5 Nuela e al terzo il numero 2 Peppesp da Capanelle per la prova GR è veramente tutto restituiamo la linea allo studio grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti